L'udienza è stata spostata. Perché? Neil ha detto che vuole confessare. Allora avevi ragione. Neil non ha mai confessato. Ha detto che dovendo fare nomi importanti non può testimoniare a porte aperte. Hanno spostato il procedimento. Dove? Nell'ufficio del giudice qui dietro. Tesoro, ti chiamo dopo. Va a prendere Hughes. Può aprire la finestra? Ah, qui dentro il caldo mi sta soffocando. Sfortunatamente oggi l'aria condizionata non funziona. La ringrazio, per favore aspetti fuori. Ho accolto la sua richiesta, signor Caffri. Siamo io e lei da soli. Grazie, vostro onore. In base all'accordo stabilito, è pronto a rendere piena confessione? Sono pronto, vostro onore. Ammetto di aver fatto molte cose nella mia vita di cui non vado fiero. No, non è vero. Della maggior parte vado fiero. Ma quello che sto per fare oggi è una cosa buona. L'ufficio del giudice Ickman. Quarto piano. Grazie. Eccolo lì. Il panificio che ha comprato quel bastardo. Confesso di non essere stato io a rubare la collana col diamante. Ho fatto sgomberare il mio ufficio perché ha detto di avere informazioni fondamentali per questo caso. Se non ha rubato lei quel diamante, allora chi è stato? Glielo farò sapere. Bailiff! È saltato dalla finestra ed è entrato in un furgone. Non è in quel furgone. Non è in quel furgone.